Tutti vincitori o nessun vincitore? A parte l'ironia, la domanda è d'obbligo, visto che al di là di ogni singolo risultato, che siamo sicuri sarà ampiamente festeggiato, chiunque oggi esulterà sappia che non rappresenta la maggioranza degli italiani. In Italia, per le elezioni europee, la percentuale dei votanti non supera il 50% degli aventi diritto. Nel nostro paese ha votato il 49,69%, se comprendiamo il voto all'estero, la percentuale del 48,21%, il record più negativo di sempre. Nella circoscrizione, che comprende la Toscana e quindi la Retino, è andata un po' meglio, l'affluenza è stata del 52,53%. Sul fronte del dato politico, nella nostra regione è invertito rispetto a quello nazionale. In Italia, il primo partito è Fratelli d'Italia, secondo il Partito Democratico in Toscana, esattamente il contrario. Ma la provincia di Arezzo si conferma, invece, spostata a destra con Fratelli d'Italia, primo partito, con il 32,04%, secondo il PD con il 29,47%, unico feudo del Partito Democratico, il Valdarno. Staccati di parecchio tutti gli altri e con risultati non certo da bollicine, soprattutto per Movimento 5 Stelle e Lega. I pentastellati sono il terzo partito più votato nella Retino, anche se dal 2019 perdono circa 5 punti percentuali. Il quarto è Forza Italia, con il 7,15%, il tonfo più forte, indubbiamente, per la Lega. Il partito del Carroccio in 5 anni passa dal 35,89% al 6,22%. In questo dato non c'è evidentemente l'effetto vannacci. Il generale ha si staccato il biglietto per Bruxelles, con mezzo milione di preferenze, in Toscana oltre 34,000, ma il suo partito perde tanti voti. E poi c'è l'exploat di Alleanza Verdi a sinistra, spicca l'elezione di Laria Salis. In Toscana il partito raggiunge il 7,55%, nella Retino il 5,65%. Tra i toscani candidati la spunta Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, partito democratico, il secondo più votato in Toscana, dopo la segretaria Schlein, e dunque con oltre 99.000 preferenze rappresenterà gli italiani in Europa. Non ce l'ha fatta invece il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che raccoglie 1.580 preferenze, e dunque andrà dritto verso la fine del suo secondo mandato.